Ma la sanità, i dettagli dell'operazione, il terremoto all'alba di oggi per l'ASP di Trapani. Per gli inquirenti si va dagli appalti e concorsi truccati ai favori sessuali. Non luogo a procedere per l'ex sindaco Pagoto, la decisione oggi da parte del GIP di Trapani. Stabile è il piano regolatore di Valderice, si attende all'importante provvedimento per una nuova economia in paese. Buonasera e bentrovati con l'edizione serale del TG Sud. Iniziamo con la notizia di oggi per gli inquirenti, quindi stiamo parlando dell'ASP di Trapani. Nel terremoto che si è abbattuto all'alba di oggi si va dalle ipotesi di appalti e concorsi truccati fino ai favori sessuali. Il terremoto che si è abbattuto sulla sanità trapanese con appalti regolari, concorsi pilotati e anche un caso di molestie sessuali non ha risparmiato la politica. Tra gli indagati dell'operazione della Guardia di Finanza, infatti, ci sono la presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Anna Lisa Bianco, ed il consigliere Gaspare Gianformaggio. La prima è finita agli arresti domiciliari, indagato a piede libero invece il secondo. Secondo l'accusa, il consigliere di Fratelli d'Italia avrebbe favorito un suo amico, Giuseppe Vultaggio. Anche lui, nello scorso mandato, consigliere comunale a Salemi, mettendolo a conoscenza degli argomenti relativi al concorso dell'azienda provinciale per esperti amministrativi. Per agevolare l'amico Gianformaggio si sarebbe rivolto al direttore sanitario Gioacchino Oddo, finito in carcere, che contattando la presidente di commissione Antonina Lacommare, indagata a piede libero, avrebbe mostrato le domande d'esame al consigliere comunale. Dalle indagini sarebbe emerso inoltre che Oddo, abusando del suo ruolo, avrebbe indotto Nunzia Lafranca ad intrattenere con lui una serie di rapporti sessuali, affronteggiare del suo interessamento per far avere alla donna il rinnovo della patente di guida speciale alla quale era sottoposta. Annalisa Bianco, invece, assunta dall'ASP con la procedura Click Day, come collaboratore amministrativo professionale, avrebbe saputo in anticipo gli argomenti e le domande del concorso. Ad informarla sarebbe stata la funzionaria dell'ASP Giuseppa Messina, anche lei finita in carcere. Gli altri indagati sono Fabio De Amiani, ex manager dell'ASP di Trapani, già finito in carcere nel maggio del 2020, nell'ambito dell'operazione Sorella Sanità, Antonella Federico, Giovanni Iacono Fullone, Alberto Adragna, presidente dell'ordine degli odontoiatri di Trapani, che con Bartolomeo Gisone, direttore sanitario del noto laboratorio di analisi cliniche trapanese e baiata, avrebbe indotto il personale ASP a redigere atti ideologicamente falsi, omettendo l'indicazione di Adragna quale soggetto positivo al Covid nel 2021. Ed ancora Antonino Sparaco ed Attilo Giuseppe Bonavires, anche loro finiti agli arresti domiciliari. Non luogo a procedere per l'ex sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto. Questa la decisione presa oggi dal giudice delle indagini preliminari. È stato emesso oggi dal Tribunale di Trapani il dispositivo di sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'ex sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, un procedimento giudiziario della Procura di Trapani che aveva portato i militari della Guardia di Finanza ad arrestare l'allora primo cittadino di Favignana nell'operazione Egades, dove finì indagato assieme ad altre 23 persone, compreso il suo vice sindaco Enzo Bevilacqua. E proprio con lui, finì nel mirino degli inquirenti per il troncone della vicenda Acqua e Marnavi, la società napoletana appaltatrice per le tre isole del trasporto idrico. Per entrambi è arrivato il non luogo a procedere assieme alla dirigente della compagnia di navigazione, Antonia Vitozzi. Stessa decisione anche per le società VETOR e VEMAR, in relazione ai reati loro ascritti. Non luogo a procedere anche per Francesco Martorana, Angelo Rinaudo, Pietro Labarbera, Giuseppe Iovino, Giuseppe Salone ed Ignazio Marino, coinvolti a vario titolo nell'indagine. Il Tribunale ha disposto in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione, un'operazione che aveva destato molto scalpore nell'opinione pubblica anche per la spettacolarità nella modalità, con le immagini di pagotto portato fuori dal palazzo comunale e scortato nelle autocivetta della polizia giudiziaria in favore di telecamere. Un procedimento che apparve subito assai claudicante nell'impianto accusatorio e che infatti ha portato già a ridimensionare e di molto la posizione processuale dell'ex primo cittadino dell'Egadi. Ancora cronaca, notte di terrore per un anziano mazzarese rapinato nella sua abitazione. Il responsabile è stato arrestato dai carabinieri. Notte di terrore per un anziano mazzarese di 88 anni rapinato nella sua abitazione in piena notte. Ad agire un 25enne che è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane, armato di coltello, si è introdotto nell'appartamento, iniziando a rovistare nei cassetti alla ricerca di denaro contante e oggetti preziosi. I rumori hanno svegliato il pensionato che si è alzato dal letto dirigendosi verso la cucina. Qui ha sorpreso il malvivente che si è scagliato contro la vittima designata. Ha puntato l'arma contro l'anziano, intimandogli di consegnargli i soldi che aveva in casa. A rifiuto lo ha aggredito, ferendolo alle mani e al volto, dandosi poi a precipitosa fuga dopo aver prelevato una banconota da 50 euro dal portafogli dell'88enne. La vittima ha chiamato i carabinieri, fornendogli una dettagliata descrizione dell'abbigliamento indossato dall'aggressore, sostenendo che probabilmente si trattava di un giovane che lui conosceva, anche a giudicare dall'accento e dal timbro di voce. I militari dell'arma sono riusciti a individuare il fuggitivo che è stato arrestato ora e in carcere. Cambiamo decisamente argomento. Iniziativa solidale dei tassisti trapanesi che nella giornata di venerdì 15 dicembre si rendono disponibili a trasportare gratuitamente i donatori di sangue. L'idea nasce dall'appello di Giovanni Cimino, il primo ad avere un defibrillatore in taxi. Trasporto gratuito per i donatori di sangue nella giornata di venerdì 15 dicembre. E' questa l'iniziativa dei tassisti di Trapani ed Elice che vede il sostegno anche del comune di Trapani, in collaborazione con il comune di Elice, l'ospedale Sant'Antonio Abate e la Croce Rossa. L'iniziativa nasce dall'appello di Giovanni Cimino, tassista di Trapani, noto per essere il primo ad avere un defibrillatore a bordo. Cimino ha invitato i suoi colleghi a offrire il loro servizio a chiunque voglia donare il sangue. Gli autisti nella mattinata di venerdì 15 dicembre accompagneranno presso il reparto di medicina trasfusionale dell'ospedale trapanese tutti coloro che vorranno parteciparvi e li riporteranno successivamente al luogo di partenza. Un servizio esclusivo e comodo per tutti gli utenti. Ringraziamo i tassisti di Trapani ed Elice per la loro generosità e solidarietà, affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore alle pari opportunità Giuseppe Virzi. E invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa importante iniziativa che può salvare numerose vite. Si tratta di un gesto di civiltà e di responsabilità sociale che dimostra lo spirito di comunità che caratterizza il nostro territorio. Si inizia dall'ospedale Sant'Antonio Abate, ma ci auguriamo che questa iniziativa possa sbarcare in tutta Italia, aiutando i tanti ospedali presenti nella nostra nazione. A Valderice si attende il nuovo piano urbanistico generale per sbloccare 500 pratiche pendenti. Il servizio. Continua il nostro piccolo viaggio nel commentare ai primi mesi delle amministrazioni alla guida dell'agro vicino dopo la tornata elettorale a fine maggio. A Valderice si è confermato Francesco Stabile che ha battuto nettamente lo sfidante Massimo di Gregorio, quasi il 60% per l'uscente. Un dato niente affatto scontato, visto che tanti suoi colleghi sono stati sconfitti dopo il primo mandato. Comunque un risponso di buona amministrazione per il primo cittadino di centro-destra, in una realtà storicamente di sinistra. E ora, in molti aspettano il nuovo piano regolatore che, i ben informati dicono, debba arrivare da un commissario ad hoc già nei prossimi giorni dopo che recentemente il Consiglio Comunale ha sancito la propria incompatibilità a votarlo. Il piano urbanistico generale, strumento di governo con il quale i vari comuni in Sicilia programmano e disciplinano le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistica edilizia del proprio territorio comunale, infatti dovrebbe sbloccare quasi 500 richieste pendenti per nuove costruzioni di ogni genere, da attività commerciali ad alberghiere fino all'edilizia privata. Insomma, certamente nuova linfa economica nelle casse comunali e nell'occupazione cittadina. Uno spartiacque per l'amministrazione stabile, per il suo secondo mandato amministrativo che determinerà tra quattro anni la continuità politica del suo gruppo che al momento non ha individuato un delfino alla successione. Il giornalismo che non muore, le storie dei nove giornalisti siciliani uccisi perché stavano ricercando la verità. E' questo il tema della mostra inaugurata nella sede di Assostampa Trapani. L'iniziativa è stata promossa dalla segreteria trabanese dell'Associazione Siciliana della Stampa nel locale confiscato alla mafia in via Duga d'Aosta a Erice e Casasanta locali che oggi ospitano la sessione provinciale del sindacato. Abbiamo aperto per la prima volta questi locali che sono locali confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione alla sostampa dal comune di Erice e abbiamo aperto per la prima volta alla cittadinanza con questo mostra, questo evento aperto gratuitamente al pubblico che racconta un po' quelli che sono i colleghi che in Sicilia hanno sacrificato la loro vita svolgendo il loro lavoro perché non erano eroi ma colleghi che sono arrivati fino alle estreme conseguenze pur di svolgere il loro lavoro. e quindi da Cosimo Cristina, assassinato nel 1960, fino a Maria Grazia Cotuli, caduta come inviato di guerra in Afghanistan. Questa mostra che è stata organizzata dall'Ordine dei giornalisti per la prima volta viene a Trapani e ci proponiamo proprio di far riportare la conoscenza della cittadinanza perché il giornalismo non è solo piccoli casi locali, piccoli eventi che si raccontano ma il compito primario del giornalista è quello di fare domande, di chiedere risposte fino alle estreme conseguenze se questo è il caso. La mostra è ideata e curata dal consigliere dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Franco Nicastro racconta le storie e il sacrificio dei nove giornalisti siciliani che nell'Italia repubblicana hanno perso la vita con una catena di agguati cominciata dal primo omicidio di Cosimo Cristina nel 1960 fino all'uccisione di Maria Grazia Cotuli in Afghanistan nel 2001 passando per Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Mario Francese, Peppino Impastato, Pippo Fava, Mauro Rossagno e Beppe Alfano. L'idea nasce dal fatto che la Sicilia ha registrato un record negativo di giornalisti uccisi e minacciati in nessun'altra parte d'Italia ci sono nove cronisti assassinati e già questo è indicativo, ma vorrei dire che tutto va inquadrato in una vicenda che supera la dimensione personale queste sono storie che riguardano non i singoli cronisti ma l'insieme della comunità, tutta la comunità giornalistica siciliana che è stata correndemente colpita il titolo nuovo che abbiamo voluto dare a questa nostra oltre al giornalismo che non muore che rimane sempre un concetto molto fisso è quello di testimoni di verità e questo è il filo rosso che lega tutte queste storie erano colleghi che cercavano la verità e che sono morti esclusivamente per il lavoro che stavano svolgendo ed era un lavoro di scavo, non era una semplice enunciazione è una narrazione di fatti la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30 e domenica dalle 10 alle 13 tutto questo fino al prossimo 17 dicembre con ingresso gratuito presente all'inaugurazione anche il sindaco di Elice Daniela Toscano iniziativa lodevole, impegnativa chiaramente perché fa un escurso su quella che è la nostra memoria storica dei tanti giornalisti appunto che sono dedicati a raccontare la verità e la verità è importante per costruire una comunità coesa e consapevole se noi non conosciamo la storia non possiamo proiettarci nel futuro e quindi il lavoro di tutti questi uomini, queste donne che con zero, con dedizione per amore della verità sono rimasti uccisi quindi un grandissimo esempio sicuramente di grandissimo valore e noi abbiamo il dovere naturalmente di valorizzare ed esaltare questo impegno per cui la sostampa credo che abbia voluto raccontare seguendo anche un filo storico nel racconto diciamo di queste immagini di questi uomini e donne giornalisti appunto che sono morti diciamo nell'ambito del loro lavoro raccontare attraverso questo filo roggico e questa ricostruzione che non è slegata ma è un racconto concatenato ecco quindi siamo ben lieti diciamo che questo luogo che abbiamo assegnato alla sostampa tra le tante finalità naturalmente anche questa diciamo di aprirsi alla città e raccontare storie come queste che sono storie importanti che fanno parte della nostra memoria Bene, questo era l'ultimo servizio adesso Lini e Stefania Renda per la consueta ampia pagina sportiva del lunedì da parte mia di tutta la redazione Telesudo un buon proseguimento di serata Grazie a tutti